Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Roblox Sì, siamo tornati anche su Roblox, dopo Minecraft e adesso anche Roblox Ah, e una cosa che mi sono dimenticato di dirvi sul video di Minecraft è che uscirà la serie una volta a settimana Lo so, lo so che è tanto, ma visto che ci saranno le vacanze e le atalizie E sai cosa c'è in questo momento? Le vacanze e le atalizie! Quindi ci saranno due episodi a settimana, poi finite le vacanze e le atalizie Solo perché non ho i compiti, cioè perché non devo andare a scuola in verità Ecco, e tornerò una volta a settimana Ma godetevi queste le vacanze e le atalizie Mangiate un sacco di panettone perché è buono, è buono, è buono, è buono E adesso iniziamo, adesso mi sono rotto E iniziamo oggi Ah, buongiorno Ah, cos'è sta roba? Più speed, boost Io qua, 51.000! Bello, ne ho 51.000 Allora, facciamo di speed Poi, uno di tutto La la la, la 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 Ok E facciamo un'altra speed perché mi sembra la più utile Non so perché Ah, ok Tizia, togliti perché questo è il mio carretto! Io ti so Ok, buongiorno Sto guardando 10 picpics 10 Nooo Vaio lo sli... Boost Ok Tutto a posto Calmi Dobbiamo Non voglio diragliare subito all'inizio, ok? Voglio prendere i pacchetti Forse la speed non è stata una delle migliori Ok Adesso la facciamo seriamente Adesso No, no La speed, la speed, la speed Perché l'ho potenziata? Scusatemi Cioè, è inutile Cosa stavo a dire che è utile? No, no, è inutile Perché poi deragli È inutile È inutile Ti prego, ti prego, non deragliare Sì Sì, una via Slow No, 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 no Chi è il maledito che ha cambiato il cambio, eh? Che volevo uccidermi E adesso è tutto gas Beh, forse è stato un bene potenziare la speed Perché qua Tanto qua non deragli Quindi Perché ci sono le protezioni Perché c'è sto cerchio? Ehi Ah, che si è tolto? No Uh, altri pacchi Altri pacchi Che ci servono per sbloccare Le ricompense natalizie Ok Via dritto dritto Ok, realizziamo un po' Perché stiamo arrivando Al Limiti Di attenzione Vai veloce Ma scusami Così il deraglio Ok Cosa col camionero? Cosa col camionero? Sicuramente non è un amico Stupido camionero Ok ragazzi Sono ritornato Di nuovo Alla zona Del camionero Corri Però non troppo Frena Frena Ma dove va il camionero? Scusi Camionero Ma non c'è Il camion della morte Non c'è No 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 Te lo faccio vedere Scusate No 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 Piano Questo È uno Piano Ah Abbiamo portato i pacchi E adesso La risponiamo Ah no Era già lì Questa sarà sicuramente 15 Perché l'ho visto D'altizia Che è risponato Quello là Perfetto Andiamo La 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 Quella Duella con gli amici E non farti Ma io non ci Cioè Non sono da solo Perché Vediamo Ok Sicuramente qua Devo andare a Tutto Turbo Non doveva andare a Tutto turbo Ho capito Ho capito No Adesso Ah ok Ritorna giù Ritorna giù Ritorna giù Ritorna giù No no Ok Via La 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 E la 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 E la 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 He wish Merry Christmas He wish Merry Christmas Non usiamo il busto Ho capito Non usiamo Un avvitamento Un avvitamento Prendiamo Cautela Cautela Buongiorno No Non ci sono veramente Di cannone Che mi sparano Vero Via 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 Sono Scappiamo via Da questi cannoni Oh oh Non va più avanti Voi avanti Stopica Auto si vede proprio che non è però i motori però ok ci siamo ci siamo ci siamo ok buongiorno salve eccomi puoi partire no no ah ok pensavo peggio no 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 corri 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 quella palla mi ha preso sicuro 100% che mi ha preso vieni più italiano no il pacco il pacco non posso più prenderlo era alla fine mi ha consegnati mi ha consegnati 16 mila e voglio più pacchi sì più pacchi e uno di speed no ma come ma io ce l'ho forse devo ehi ok l'ho equipaggiato ma scusami tu dovresti andartene ciao ciao fatti cedere dalle auto ma cosa succede se li invi... ho capito scusi E adesso inseguo le auto Ah no, buongiorno La 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 Prossimoforo verde Beh, se è verde io posso passare, no? Sì, buongiorno La 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 Ecco, quello è rosso Porca miseria No, non è più rosso, è verde, è verde, è verde Attenzione, velocità Cioè, quindi devo andare piano a Dossetti Bello Altri dossetti Questi non li ho presi molto bene Ok Buongiorno Salve Buongiorno T-Track Sto volando ragazzi Il mio macchinino vola Vola, vola, vola La 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 Maledetto Che infame Ma mi si do sete Che infame Ma scusatemi Di 20 natalizio 5 Ah Non l'avrò mai Auguri di buon Natale Auguri di buon Natale Ok, ma No, 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 ecco Stavo per ammazzare Ok, forse ho esagerato Forse ho esagerato Calmo Sì Consegna altri pacchi Buongiorno Salta Tunk Preparati Cos'è? Una gara di Formula 1? Sì No, 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 no No, cosa? Cos'è? I believe I can fly Cosa è successo? Ok, ho capito Non ho bisogno di usare il turbo Più lettori Cosa vuol dire? No, no Furconcino della morte No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, no, no Altri furgoncini Altri furgoncini Altri furgoncini La, na, 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 na Tre furgoncini Più cannoni Io mi sparo La, 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 la La Salve Non ho letto Cartello La goccia Salve Vedo Vedo che siete in forma voi mortali No La, la, la La, la, la La, la, la Percorso duro Percorso lungo Per favore Ragazzi Io devo sbrigare Perché c'ho un video da fare Piano Piano Veloce Veloce No Qui così Non è una rotaglia Quel cosa Non è una rotaglia Ok Quel cosa Non è una rotaglia Abbiamo capito che quelle Sono Rotaglie Anzi Non sono Rotaglie Quindi Voglio andare veloci Senza Pudore No Ragazzi Per questo video è tutto Noi ci vediamo In un prossimo video Vi ricordo di iscrivervi A tirare la campanellina E spaccheri questo gioca Ciao